Bene, allora benvenuti a questo webinar che si chiama Ridurre lo stress con la fotografia. Se sei presente, se sei in questo webinar, significa che hai visto uno dei miei contenuti e hai avuto la curiosità di scoprire come ridurre lo stress attraverso la fotografia. Non solo ridurre lo stress con la fotografia, ma anche ritornare al momento presente con la mente, con i tuoi occhi e con il tuo cuore, parafrasando una famosissima frase di Henri Cartier-Bresson. Iniziamo subito questo webinar e andiamo a vedere che cosa possiamo fare insieme quest'oggi. Allora, innanzitutto vi farò una piccola introduzione. Chi sono? Qual è la mia storia? Le cause dello stress e dell'ansia e perché la fotografia è fondamentale per ridurre lo stress. Quindi tutti i benefici della fotografia per la riduzione dello stress. Poi come possiamo utilizzare la fotografia per ritrovare la serenità e poi andremo a vedere degli esercizi insieme per effettivamente ridurre lo stress a partire da quest'oggi. Quindi non passate avanti, non perdete questa introduzione, non chiudete questo video, ma cercate di vederlo fino alla fine perché alla fine vi darò due esercizi semplicissimi per andare veramente a ridurre lo stress a partire da oggi. Quindi iniziamo con la nostra presentazione. Innanzitutto chi sono? Con questa bellissima fotografia dove sembro un po' indormentato, eccomi chi sono. Sono Riccardo Pedica, sono alla base di formazione ingegnere con una grande passione per la fotografia e una grande passione anche per la crescita personale. Quindi sono un life coach certificato. Sono autore del podcast Impara la fotografia. Da anni creo contenuti legati alla fotografia e cerco di condividere al massimo le vie conoscenze per far crescere più possibile le persone che amano questa passione. E ho scritto anche il libro Il viaggio del fotografo che è parte di questo progetto del quale stiamo parlando oggi. Qual è la mia missione? La mia missione è quella di aiutare le persone ad esprimere al meglio la propria creatività. Quindi tutti noi, dentro di noi, abbiamo una esigenza di esprimere questa creatività e capire qual è il proprio mondo interiore per vivere pienamente la propria vita. Quindi questa è la mia missione principale e quello che voglio condividere con voi quest'oggi. Ma non sono solo un fotografo, ci sono anche altri tratti. Ad esempio, essendo ingegnere, sono perfezionista, sono ambizioso, sono orgoglioso, sono metodico e se decido di fare questa cosa, ogni cosa che decido di fare, mi impongo degli standard talmente tanto alti che solitamente questo sfocia in stress. Quante persone, quanti di voi si sentono in questa stessa situazione? Vogliamo sempre strafare, vogliamo evitare le critiche, vogliamo evitare di essere ripresi, ci imponiamo questi standard talmente tanto alti che alla fine arrivano e creano dello stress. Ed è questo il motivo principale per il quale siamo qui oggi in questo webinar dove parliamo di questo stress, perché come tutti vivo lo stress quotidianamente. Quali sono i sintomi dello stress? Perché questo è fondamentale per capire se siamo stressati oppure no. Solitamente quando abbiamo un alto livello di stress sentiamo dell'ansia, della preoccupazione, siamo molto più sensibili a quello che ci può preoccupare. Cerchiamo di anticipare i propri problemi in modo da poterli risolverli perché sentiamo che abbiamo poca energia per affrontarli naturalmente. Irritabilità e difficoltà a concentrarsi. Quante volte ci siamo sentiti irritati o abbiamo avuto difficoltà a concentrarsi semplicemente perché eravamo stressati? Lo stress gioca un ruolo importantissimo sull'irritabilità e sulla difficoltà. I disturbi del sonno. Questa è una cosa che io ho vissuto tantissimo. disturbi del sonno, l'insonnia o il sonno disturbato? Chi come me avvive un sonno disturbato forse è anche peggio perché l'insonnia ti porta a scapire che non stai dormendo. Quando invece hai un sonno disturbato questo significa che stai praticamente vivendo la tua notte ma sei continuamente in una specie di lavoro mentale che non ti fa mai fermare per fermarti e per riposarti realmente. Quindi questo è uno dei sintomi più importanti. Il cambiamento di appetito. L'aumento o la diminuzione della fame? Abbiamo tutti visto che quando siamo stressati il nostro appetito cambia. Cerchiamo, mangiamo di meno. Se, ripeto, io vi lo dico perché l'ho vissuto in prima persona. Me spesso quando siamo stressati io non ho addirittura fame. Sento un nodo allo stomaco. non riesco a mangiare. Sento veramente che se mangio qualcosa di più mi darà fastidio e mi farà sentire male. Quindi fate attenzione perché se vi sentite che avete l'appetito che diminuisce o aumenta perché molto spesso possiamo anche cercare di compensare il nostro stress andando a aumentare quelle cose che mangiamo e solitamente magari le mangiamo senza pensarci senza consapevolezza cerchiamo di limitare, di mangiare per compensare qualcosa che ci manca. L'affaticamento e la mancanza di energia. Questo è veramente il punto chiave della mia sensazione di tensione e di stress. Quando sono stressato mi sento enormemente affaticato e sento una mancanza di energia. Il mal di testa non lo stiamo a spiegare quante volte abbiamo il mal di testa perché siamo stressati magari al lavoro o abbiamo delle sensazioni muscolari o delle tensioni che vanno ad influenzare veramente sulla vita di tutti i giorni. Bene, io spero che voi siate più fortunati di me ma io tutti questi sintomi li ho vissuti e li ho vissuti, diciamo, li vivo ogni tanto fortunatamente riesco a gestirli in questo momento li ho vissuti e ho cercato continuamente di combatterli di cercare di evitare al massimo più possibile questi sintomi dello stress. Che succede però? Che fondamentalmente questa è la mia storia questo è lo stress che io ho creato. C'è stato un periodo nella mia vita attorno al 2018 dove questi sintomi erano veramente forti ma forti a livello di impedirmi di vivere normalmente. Ero paralizzato dal panico stavo andando al lavoro come ogni giorno ma quel giorno le sensazioni erano molto forti la mia mente era invasa veramente da pensieri negativi e quasi tremavo effettivamente. non potevo continuare ad andare avanti stavo guidando, guidavo e mentre guidavo sento una sorta di sensazione molto forte che cresce in me una sensazione di alzia sempre più forte che cresce, 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 cresce e mi chiede di fermarmi perché non potevo continuare a guidare in quel modo. Alla prima area di sosta mi fermo non appena il casello dell'autostrada e cerco disperatamente di calmarmi. Chi ha avuto attacchi di panico sa che calmarsi in queste situazioni è estremamente difficile perché siamo arrivati in una parte irrazionale del nostro cervello dove è veramente impossibile calmarsi. Che succede però? Succede che mi fermo esco dalla macchina cerco di respirare un pochettino alzo gli occhi e vedo una bellissima alba era una mattina verso le 7 7 e un quarto di mattina un'alba che sale, che sta salendo un sole che sta salendo un cello che si tinge di rosa di arancione, di giallo e irrimediabilmente vista la mia passione per la fotografia e anche inconsciamente perché in quel momento io stavo cercando di rilassarmi di uscire da questo attacco di panico prendo il mio telefono dalla tasca e fotografo fotografo questa bella alba pensavo che in quel momento quella fosse la cosa più importante da fare magicamente non so come dirvi non so come spiegarvi quello che è successo ma il mio attacco di panico è svanito e mi sono praticamente sentito in una sensazione di pace che cercavo da tempo ma veramente da tempo in quel momento ho ritrovato il momento presente mi sono reso conto che stavo cercando di combattere contro i miei pensieri negativi e invece di combatterli dovevo osservarli e lasciarli andare la fotografia in quel momento mi aveva aiutato a concentrarmi sull'istante presente e a ritrovare la calma cioè mi aveva portato via da tutta quella spirale negativa che avevo nello stress nella tensione nell'ansia e mi aveva portato nel momento presente ho guardato quelle fotografie mi sono sentito grato per quell'esperienza perché avevo imparato una cosa nuova avevo creato avevo visto che nel momento più difficile della mia vita in quel momento la fotografia mi aveva fatto capire che c'era qualcosa di bello da catturare e che quel bello mi avrebbe potuto fermare mi avrebbe potuto insegnare a fermare i miei pensieri negativi per ritornare al momento presente e ridurre lo stress e potete capire che questa è la storia non vi sto raccontando balle è veramente la mia storia questo è quello che ha cambiato la mia vita perché da quel giorno ho capito che la fotografia non era solo una parte importante della mia vita non era solo una parte artistica un hobby ma era lo strumento che potevo utilizzare per trovare la pace e la serenità che non avevo più e mi son detto anche che probabilmente se ci stanno persone nel mondo che hanno il mio stesso problema probabilmente attraverso la fotografia potremmo trovare il modo per uscire da questa situazione di stress di panico di ansia e ritornare al momento presente grazie alla fotografia grazie a tutti grazie a tutti